Ieri è stata una giornata sfortunatissima perché abbiamo perso Giacomo, quindi tutti noi il sistema ha perso, quando si perde un ragazzo di 12 anni tutti noi abbiamo perso. Giacomo, un ragazzino milanese di 12 anni, si trovava in località Casina del Loia all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nel comune di Prato Vecchio e Stia, insieme ad un gruppo di altri adolescenti per un'escursione organizzata dall'associazione Trekking di Novate Milanese. I ragazzi e l'accompagnatore stavano percorrendo il sentiero della Calla in direzione Montalto dove avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il drammatico incidente è avvenuto proprio durante il cammino, i giovani si erano fermati in una radura per mangiare quando una catasta di legna è corollata colpendo alcuni ragazzini. Giacomo è rimasto schiacciato sotto, immediatamente partita la corsa ai soccorsi difficoltosi vista la zona impervia, sul posto l'intervento congiunto di vigili del fuoco 118 forestali soccorso alpino e l'elicottero Pegaso dal quale i soccorritori si sono calati con il berricello. Altri soccorritori hanno potuto raggiungere il posto grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo sul posto con due squadre operative e il supporto di un elicottero. Quando siamo arrivati la scena era veramente pesante, un bambino sotto tre legni, prono, quindi già la situazione del bambino era complicatissima e questi tronchi erano difficili da spostare. Infatti la prima squadra, il vigili del fuoco, ha dovuto aspettare che arrivasse anche la seconda squadra perché da soli non ce la facevano spostare da quanto erano pesi, erano tronchi di 5 metri con un bel diametro e quindi una volta spostati ci siamo anche allontanati da lì perché era pericoloso, poteva comunque precipitare altri legni. Sono iniziate le manovre di rianimazione del ragazzo. All'inizio abbiamo avuto una ripresa di attività cardiaca, poi inevitabilmente sono durate 50 minuti e alla fine poi ha avuto un altro attività cardiaco dal quale non si è più ripreso. Nell'incidente è rimasto ferito un altro ragazzino che ha riportato una frattura ad una gamba. Il stato di sciocca è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Meyer di Firenze con Pegaso. Sulla vicenda il PM di turno ha aperto un fascicolo al momento senza indagati.